Ciao a tutti, vi voglio consigliare una ottima app per imparare le lingue. Si chiama HiNative e supporta oltre 110 lingue, tra cui ovviamente anche il giapponese. Mi è stato chiesto di parlarvene e io prima di decidere se accettare o no, ho provato quest'app. E sono già più di due settimane che la sto utilizzando e mi piace veramente tanto, quindi per quello ve la consiglio. Altrimenti non ve la consiglierei, è veramente una bella app. È disponibile per iOS, quindi iPhone, eccetera, Android e potete utilizzarla anche da web, direttamente dal sito di HiNative. Per iscriversi ci si mette davvero un attimo perché potete iscrivervi tramite Facebook, Twitter, Langate oppure tramite email. La cosa bellissima è che è strafacile da utilizzare, basta premere il pulsante chiedi qui in mezzo per chiedere delle domande. E come vedete è veramente strafacile perché ci sono come delle domande già precompilate, diciamo, e voi potete chiedere direttamente quello che desiderate e vi rispondono altri utenti madrelingua. E ovviamente anche voi da italiani, o se conoscete altre lingue, potete rispondere per aiutare altri utenti. E secondo me questa cosa di aiutarsi per imparare le lingue, aiutarsi a vicenda, è fantastica. Io ad esempio ogni tanto entro, magari vedo che qualcuno ha bisogno di imparare una frase in italiano o qualcosa e gli rispondo. E la cosa bella è che si può inviare anche l'audio, sia per rispondere e sia per ricevere delle risposte. Quindi magari se non sapete la pronuncia di una determinata lingua, una parola, qualcosa, chiedete e i madrelingua vi rispondono sia col testo sia con l'audio. E il bello è che ci sono proprio dei madrelingua che vi rispondono, quindi voi potete chiedere tutto. È un po' come avere un insegnante privato che vi aiuta in tutto quello che desiderate. Vedete, io adesso per esempio metto giapponese e chiedo che cosa significa che kondekineotoko. Clicco su posta e dopo esattamente due minuti mi rispondono e mi dicono che cosa significa, pazzesco. Poi invece c'è una persona che ha messo un audio, che ha chiesto se è normale la sua pronuncia e si può dare una valutazione. Io ho messo un po' strano perché non era proprio perfetta. Poi in questa domanda ad esempio c'è un portoghese che chiede come bisogna pronunciare delle lettere doppie, per esempio ragazzo, farfalla. Allora io gli ho inviato un file audio dicendo semplicemente ragazzo, farfalla. Poi lui premerà sul like e mi arrivano dei punti così salgo di livello, diciamo che è una specie di gioco per imparare le lingue. Quest'app è veramente strafacile da utilizzare, quindi è inutile che stia qua a spiegarvi tutto su come utilizzare tutte le cose, perché ve le installate e in un minuto avete già capito tutto. Le cose principali di quest'app sono gratis e se poi volete qualche funzione in più c'è la modalità premium. Tra l'altro costa pochissimo la funzione premium e vi dà delle cose aggiuntive, per esempio potete mettere la vostra domanda più in evidenza, non ci sono le pubblicità all'interno della app, potete ascoltare tutti gli audio caricati anche da altri utenti per imparare meglio. La funzione premium insomma vi dà qualcosa in più, però già la app nella funzione gratuita è già praticamente completa. Hi Native, scaricatela tutti perché è veramente una bellissima app che vi aiuta a imparare le lingue in modo facile, divertente e veloce. Per questo video è tutto e al prossimo video da Giappone, ciao ciao!